Quando Valerio metterà l'anello a Valentina, gli dirà tu sei mia, solo mia, unicamente mia. Quando Valentina metterà l'anello a Valerio, gli dirà tu sei mia, solo mio e unicamente mia. Oggi Valerio sta dicendo a Valentina, tu sei il dominus della mia esistenza. La mia esistenza è la mia esistenza. La mia esistenza è la mia esistenza. Perché da oggi in poi Valerio vuole riconoscere in Valentina la roccia su cui costruire la sua casa. Oggi Valerio ci sta dicendo pubblicamente che per lei quel Dio che oggi invochiamo è in Valentina. E lui dovrà amare, servire e onorare Dio in Valentina. E Valentina ci dice questo. Per me Dio oggi si è manifestato e resterà accanto a me nella persona di Valerio. Questo è il matrimonio cristiano. Valentina, ricevi quest'anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Valerio, ricevi quest'anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Valerio, ricevi quest'anello, segno del mio amore. Valerio, ricevi quest'anello, segno del mio amore. Grazie! Valerio, ricevi quest'anello, segno del mio amore. Grazie! Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione